Cultura e creatività sono per la Puglia una delle leve per lo sviluppo del tessuto economico locale. Per questo la Regione, insieme a Puglia Cultura e Puglia Creativa, ha costruito una partnership tra pubblico e privato per ospitare 15 realtà da tutto il mondo durante l'evento Creativity Meets Cluster, un'occasione per creare opportunità di business e progettazione europea sulla cultura. È l'occasione veramente di creare una sinergia fra i policy maker e le imprese culturali, proprio per sostenere l'impresa culturale. L'engagement che cercheremo di creare va nella direzione del welfare culturale, in modo tale che le imprese possano veramente investire in azioni culturali che abbiano un forte impatto sociale. 50 le imprese partecipanti provenienti da altri paesi europei e dal Sud America. L'idea è quella di creare sempre di più legami, collegamenti, reti tra queste imprese culturali e creativi che generano PIL, che generano posti d'occupazione e quindi generano benessere nella nostra società. L'evento durerà due giorni e ospiterà tavole rotonde su trasformazione creativa, intelligenza artificiale applicata ai processi creativi, cross collaboration e rapporto tra media e intelligenza artificiale. Dalla cultura e della creatività nascono le nuove idee, il nuovo sviluppo, le nuove forme di impresa e quindi in questo cerchiamo di creare per le imprese culturali e creative pugliesi il presupposto per la negoziazione e per lo scambio culturale in questo settore con colleghi che possano in qualche maniera o importare o esportare la nostra attività.